Per quello che riguarda me e le mie competenze, questo confronto è sicuramente molto prezioso perché il settore agroalimentare rappresenta un fiore all'occhiello del sistema economico e produttivo italiano ma in particolare del mezzogiorno e quando si parla di agricoltura si parla soprattutto di questione idrica e la questione idrica è innanzitutto una questione meridionale perché il tasso di dispersione idrica nel mezzogiorno raggiunge punte altissime, questa è la ragione per cui già nelle prime settimane di vita del governo abbiamo voluto stanziare io personalmente mi sono battuta per inserire una linea di finanziamento all'interno del programma europeo ReactU di 313 milioni di euro per ridurre le perdite idriche e la mia idea che condividerò con questa platea è quella di dar vita ad una vera e propria strategia per l'acqua attraverso un contratto istituzionale di sviluppo a valere sui fondi nazionali di sviluppo e coesione Anche nel PNRR potrebbero esserci dei fondi per questo? Ci sono dei fondi, ci sono dei fondi per ridurre le perdite idriche che ammontano circa 400 milioni di euro ma ci sono oltre 4 miliardi di euro di cui 2 miliardi al sud, oltre 2 miliardi al sud che servono proprio per interventi sul sistema idrico integrato Grazie 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 Grazie